Condizioni di lavoro e di vivibilità con il passare del tempo stanno peggiorando all'interno degli istituti carcerari abruzzesi. Carenza di organico, il sovraffollamento dei detenuti, la presenza di soggetti reclusi con problemi psichiatrici e ricorso ordinario allo straordinario hanno fatto salire la tensione nelle carceri abruzzesi. Oggi affollate da 1827 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1666 e continua a salire anche il numero di eventi critici tra le sbarre. Ieri le salsicce riempite di droga a Teramo, oggi un cellulare in un armadietto a Chieti. Per il sappe cresce sempre di più l'emergenza nelle carceri. Mentre la politica italiana litiga per i 41 bis, le carci stanno scoppiando. Carenza di organico, sovraffollamento, risse, aggressioni, spaccio di droga. Ma per fortuna le donne e gli uomini della polizia penitenziaria non si abbattano e con grande senso del dovere quotidianamente assicurano la legalità agli interni istituti di pena. Come nel caso di qualche giorno fa dove all'interno di un pacco postale destinato a un detenuto si è scoperti all'interno di salsicce 70 grammi di hashish destinato allo spaccio interno. Questo è uno dei tanti problemi degli istituti che senza uomini, che senza strumenti, senza nulla riescono a portare avanti una battaglia nel totale silenzio delle istituzioni. Per questo motivo è scattato lo stato d'agitazione del personale di polizia penitenziario in Abruzzo, proclamato in maniera unitaria da tutti i sindacati di categoria. In un documento inviato al capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al provveditore Lazio Abruzzo Molise e direttori degli istituti penitenziari abruzzesi per denunciare nuovamente il grave stato in cui versano gli istituti in regione. Il SAP, unitamente da altri sindacati, a livello regionale ha indetto lo stato d'agitazione per manifestare contro l'inerzia della politica tutta.